Sì, grazie. E quindi questo è il brano dedicato a questa ragazza, Alessandra. Tra l'altro ho visto che all'interno della compagine ci sono ben baschi, sbirini, forti, ma ci sono anche delle dolcezze, delle femminilità. Ad esempio, qua su questa parte, ho visto anche già due ragazze prima, la terza parte, vi saluto, salve il tuo nome, Ludovino, vi saluto un applauso per questa ragazza. Ma vedete qui, la facciamo così. Signore e signori, quella ragazza suonente, bella, dagli occhi dolci e profondi e dal sorriso meraviglioso, il suo nome, Lino Beneforte. Alessandra. Che casualità, si doveva spiegare la vita. Questa Alessandra prende di nuovo a posto e ti ringrazio per la tua gentilezza per essere prestata a questo giorno, perché è prestata veramente. Adesso invece torniamo alla giornata, ai canti militari. Quindi andremo a scontare un po' di canti militari che verranno mescolati, aggiustati, allacciati e portati alla vostra attenzione. Prendetevi e non fatevi risseppare. Prendetevi e non fatevi risseppare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.